In un letto del reparto grandi ostionati dell'ospedale Perrino di Brindisi ha il 70% del corpo bruciato Fabrizio Castelluzzo, gravemente ferito nell'esplosione dei fuochi d'artificio pronti per lo spettacolo pirotecnico di Santo Ronzo. Lui è il titolare della ditta a cui era affidata la preparazione dei fuochi. I medici per ora non sciolgono la prognosi, così come non la sciolgono per il padre settantenne Vittorio Castelluzzo, gravi ferite ad un braccio per un altro collaboratore della ditta, l'ottantenne Raffaele Gigante, medicato al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. L'esplosione che ha letteralmente sventrato il furgone Fiat Iveco della ditta Castelluzzo è avvenuta poco dopo le 20, mentre titolare ed operai erano nel pieno del lavoro per posizionare i fuochi in un'area alla fine di Viale Aldomoro. L'esplosione ufficiale, lo spettacolo pirotecnico per il quale ogni 26 agosto le cesi e non si danno appuntamento, era previsto per mezzanotte e mezza, ma un incidente ha provocato l'accensione 4 ore prima, mentre buona parte del materiale esplodente era ancora sul furgone. Forse una scintilla dovuta a sfregamento ha innescato la deflagrazione mentre si stava scaricando il materiale dal mezzo. Il boato e poi le urla e le chiamate dei residenti al 118. Sono arrivate le ambulanze, i vigili del fuoco, la polizia e poi gli ispettori dello Spesal. Mentre il sindaco annunciava che per rispetto dei feriti lo spettacolo pirotecnico è stato annullato, i vigili del fuoco mettevano in sicurezza l'area. Le operazioni di bonifica sono andate avanti per ore, sia loro che la polizia relazioneranno l'autorità giudiziaria perché le indagini e le perizie spieghino esattamente cosa abbia causato l'incidente. Lo Spesal si sta occupando di chiarire anche a che titolo fossero lì le molte persone presenti subito dopo l'esplosione. Intanto il magistrato di turno, il sostituto procuratore Emilio Arnesano, ha aperto un fascicolo di inchiesta ipotizzando l'accusa di lesioni colpose al momento contro i gnoti. Nei prossimi giorni disporrà accertamenti e perizie.